e su questo bellissimo tramonto che si è appena concluso andiamo a parlare del giro del mondo in 80 grammi di co2 e com'è possibile eccola qua gringo icaro il mio quadriciclo elettrico che ha già fatto attenzione 40 mila chilometri praticamente ho fatto il giro del mondo col motore elettrico non ci credete vediamo le batterie non hanno ancora perso niente fanno ancora i loro 100 chilometri anche di più se vai piano guardate un po' il display 40 mila 312 chilometri di cui 39 mila fatti da me e precedenti da chi me l'ha venduta leggermente usata quindi inquiniamo veramente poco certo a biposto certo va solo a 65 all'ora non va in autostrada c'ha 100 chilometri di autonomia però per quello che serve a me va bene e non inquina dice però poi dopo la corrente comunque la prendi da fonti inquinanti no attenzione a parte che le colonnine dell'enel ti garantiscono che la corrente proviene tutta da fonti rinnovabili ma anche per la ricarica a casa presto avremo i pannelli solari e quindi presto su questo bel tetto di casa anzi su quel bel tetto di casa ci avremo dei pannelli che ci ricaricheranno in modo completamente ecologico e quindi arriveremo a 0 grammi di co2 ci ricaricheranno in maniera completamente ecologica la nostra macchinetta elettrica e niente questo è tutto un saluto da stefano per chi fosse interessato gringo Icaro circa 10 mila euro e te la fai casomai contattatevi ciao